Il tarlo asiatico colpisce ancora. Stavolta tocca alla zona del fabbricone, in particolare a via Paolini, all'angolo con via del Gorone, dove sarà necessario abbattere 11 grandi platani e un acero. Lo ha comunicato nei giorni scorsi l'assessore alla città curata Cristina Sanzò alla Commissione 4 dedicata al problema. Sono interventi dolorosi ma necessari, ha affermato Sanzò, non possiamo fare diversamente. Gli alberi abbattuti però saranno sostituiti da altre piante scelte tra tipologie non attaccabili dal tarlo. Il costo dell'operazione è di 8.500 euro più IVA. La brutta scoperta è stata fatta dai tecnici del servizio fitosanitario della regione, che nel novembre scorso sono tornati nella zona dei giardini di via Baracca per i controlli periodici sull'effettiva estirpazione del tarlo asiatico da quella zona e nei dintorni, anche con l'uso di cani molecolari. Purtroppo dal tronco di un acero e di due grandi platani in via Paolini sono emersi alcuni segnali sospetti della presenza dell'insetto che poi il laboratorio della regione ha confermato. Da qui la necessità di abbattere le tre piante con le presenze accertate e altre nove presenti in un raggio di 100 metri. Nel corso della commissione è emersa la presenza di un altro insetto, l'aleurodide spinoso degli agrumi, che ormai ha invaso l'intera città partendo da un focolaio nel centro. Tutto è partito dalla segnalazione di un privato cittadino che ha notato uno strano insetto sulla propria pianta di Pompelmo. I tecnici regionali sono intervenuti sul posto per prelevare un campione. Il laboratorio ha confermato la presenza di questa specie fino ad oggi inesistente in Toscana. Le misure per estirpare l'insetto sono meno radicali rispetto a quelle previste per il tarlo asiatico. Non è necessario eliminare le piante. Le disposizioni specifiche sono in corso di adozione, ma in sostanza per chi commercia piante sarà necessario utilizzare uno specifico insetticida, mentre i privati cittadini dovranno fare attenzione a non spostare potature e residui vegetali. Nei prossimi giorni sarà data una comunicazione puntuale in merito.